Non sono esoterico, non credo nei fantasmi, né nel diavolo, non credo in queste cose, ma credo che il caso sì, il caso sì, quasi una figura mitologica, nel senso che, per esempio, per rimanere aderenti a quello che ho vissuto in questi giorni qui, c'è un cane in scena, beh il cane potrebbe fare quello, è un elemento di caso, casuale, quindi una sera può andare da una parte, una sera può andare dall'altra, una sera può non entrare, perché non gli va di entrare, quindi c'è sempre qualcosa che offre la possibilità al caso di entrare, di sconquassare tutto, ma ci sono anche altri modi di attirare il caso, il caso credo che rappresenta anche la possibilità che qualcosa possa essere, deve essere diverso, quindi vivente. È un elemento di contraddizione perché uno spettacolo deve essere completamente preparato, ordinato, il caos rappresenta anche un piccolo momento di disordine, di caos, di turbolenza.